Ci sono due pappagalli che si incontrano, uno tutto bello, colorato, verde, bellino, brillante e l'altro tutto sudico, puzzolente, un po' spennacchiato, no? Sicché quello tutto bello gli fa, accidenti, come tu sei ridotto? Perché lavoro, che lavoro anch'io, ma te tu fai un bel lavoro, che lavoro fai? Io sono stato preso da una principessa che mi tratta tutto bene, mi pulisce, vedi? Dice, io fai il pappagallo all'ospedale.